Ristorante italiano in Mississippi, pronto per la pizza. Appetizer, focaccia, con olio. Troppo origano, ma buona. Prosecco con bicchiere Cipriani style. Birro a perro a lo mie. Non posso descrivervi lo shock. Una margherita e una salame piccante a Tisburgo, Mississippi. Cioè io non sono in grado di spiegarvi questa pizza margherita. L'unica consolazione.